Non si può più stare a casa. La potenza pacifica siamo qua soltanto per dimostrare che si può aprire stando fuori all'aperto perché il mercato è all'aperto, visto che sono aperti centri commerciali, ferramenta, colorifici, insomma sono aperti tutti e a noi praticamente non ci considera nessuno. Fate i banchi alimentari che sono aperti, però anche noi cosa facciamo? Noi un anno e mezzo che siamo così, fiere eventi non ne fanno, noi facciamo anche fiere eventi, quelle là non ne parla nessuno, è un anno e mezzo che non si fanno fiere. Per cui siamo veramente arrivati oramai all'estremo delle forze, non abbiamo più modo di andare avanti, non c'è arrivato niente dallo Stato per cui non abbiamo avuto nessun tipo di aiuto a parte i 600 euro che sinceramente non paghiamo neanche l'Ips con 600 euro.